ciao ragazzi e ben ritrovati al consueto appuntamento delle ore 16 del giovedì con il consigliato da car fish online oggi video più breve del solito penso non vorrei avervi stufato con i precedenti però mi sento di consigliare visto la stagione calda dei prodotti che io ritengo utili quando si entra in pesca in queste condizioni dove le temperature anche dell'acqua sono particolarmente alte e si ha bisogno di pasturazioni con uso di granaglie e quindi pasturazioni abbondanti senza la necessità di dover spendere tanto per quanto riguarda la boilers quindi per tutti coloro che pensano e hanno bisogno di granaglie per poter effettuare la loro pasturazione sia preventive che durante la sessione di pesca io ho in store due prodotti che secondo me fanno al caso vostro uno sono mais cotto che viene fornito in sacchi da due chili e mezzo sottovuoto e tiger nut spagnola anch'essa cotta in formato sempre da due chili e mezzo questo riconsiglio soprattutto per chi per chi ha veramente poco tempo da dedicare alla cottura della granaglia perché sapete granaglia tra le fasi di ammollo e le fasi di cucina e poi di stoccaggio necessita tempo non tutti ce l'hanno venite in store o fate l'acquisto attraverso il sito internet vi arrivano già pronte e non dovete far altro che andare in pesca con un prodotto validissimo molto molto validissimo questo ve lo straconsiglio e dal prezzo abbastanza contenuto comunque e e senza dovere impiegare a tempo nella fase di cottura e di preparazione per coloro invece che il tempo ce l'hanno e che vogliono prepararsene in casa io ho già da anni acquisto direttamente in spagna le tiger nat spagnole che ci tengo a precisare che non tutte le tiger nut provengono dalla spagna ma la vera chufas è la spagnola è quella che contiene maggior numero di zuccheri è qualitativamente superiore io ce l'ho in due formati vi ho portato questa che è secca ai standard ma esiste anche ce l'ho la versione più grande che è la high caliber ovvero la tiger nut xl questa che è la versione standard è straconsigliata per la pasturazione anche se molti effettivamente così è lo utilizzano anche per l'innesco se invece avete bisogno di tiger nut molto più grandi soprattutto da innescare vi consiglio compratevi la xl vengono venduti in sacchetti da un chilo li confeziono io andando per arrivare il contenuto dei sacchi da 25 kg che mi arrivano ma per coloro che hanno bisogno di quantità maggiori possono acquistare anche il sacco da 25 kg trovate tutto quanto disponibile sul sito www.carfishonline.net la sezione eschi granaglie a marchio carfish online quindi ragazzi con questo buona pasturazione per chi passerà le proprie ferie in pesca gli auguro di divertirsi e noi ci vediamo con il prossimo consigliato da carfish online sempre in anteprima alle ore 16 sul canale youtube successivamente poi condiviso sulle pagine social facebook e instagram i commenti fateli sotto questo video se vi è piaciuto se vi è piaciuto mettete anche il like se non avete ancora fatto registratevi iscrivetevi al canale youtube e invece se volete interagire con me ci sono anche altre opzioni tra cui la mail infochiocciolacarfishonline.net i contatti di telefonici che trovate proprio sul sito interna alla sezione contatti oppure anche attraverso la pagina contatti di facebook di carfishonline.net con questo ragazzi io vi auguro un buon agosto ci vediamo quel prossimo video ciao a tutti da nicola